Siamo rientrati nel 3%, abbiamo fatto un sacco di sacrifici, li hanno fatti soprattutto un certo tipo di persone che sono quelli più facili a individuare, perché le riforme noi le facciamo così. Ma se hai quei 3-4 miliardi, li spendi meglio, non togli l'IMO a chi la può pagare, non togli le tasse sul patrimonio, abbassi le tasse sul lavoro e lo fai subito, in modo dichiarato, con tutto il coraggio che ci puoi mettere. E lo fai senza arrivare con così tanta fatica a ritoccare il cuneo fiscale, lo fai cambiando le proporzioni delle aliquote. Io lo voglio dire, ma se la sinistra non dice queste cose, ma stiamo a casa, c'è già casini, non c'è bisogno di replica. No, perché, e per ricominciare per esempio, io faccio notare una cosa, nel 1975 siamo nati Renzi e io, che è stato un anno terribile per la sinistra italiana, allora le tasse, le persone che guadagnavano poco, quelle che adesso sarebbero i precari, che sarebbero le persone al primo impiego, pagavano la metà delle tasse. E le persone molto benestanti pagavano quasi il doppio delle tasse. Mi spiego? Quindi la progressività in questi anni si è invertita. E noi non possiamo citare il sindaco di New York perché fa figo e non capire che lui sta dicendo questa cosa, che bisogna ritornare alla progressività, che bisogna fare in modo che tutti i soldi, e la prima cosa da fare è che le persone che hanno mille euro a disposizione possano averne millecento, mille duecento, perché questo consente loro di arrivare alla fine del mese e consente alle persone che producono qualcosa di venderlo. Questo è il punto, e la prima è il ceto medio. Voi considerate, ricordatevi questa cifra, ci sono quasi 34 milioni di persone, di contribuenti, che denunciano, che dichiarano 30 mila euro all'anno, quindi mille e settecento euro al mese più o meno. E sono quasi tutti gli italiani. Da lì in giù noi dobbiamo intervenire subito per fare quella riforma, quel cambiamento di proporzioni, questa nuova misura da trovare. Soltanto se siamo in tanti riusciamo a cambiare i rapporti di forza. La politica italiana non la decide nemmeno Letta, non la decide nemmeno il Consiglio dei Ministri, e non la decide nemmeno il Presidente della Repubblica, che pure ha un ruolo da protagonista assoluto, sul quale una riflessione la potremmo fare senza essere irrituali e blasfemi. Perché questo è lo schema di Napolitano. E banalmente io non mi ci ritrovo. Lo dico così, no lo dico così perché con parole misurate, ma non lo decidono nemmeno loro. Lo decide il fatto che se arriva Gianluca Ruggeri con le sue proposte dell'ESCO, della efficienza energetica, ti spiega come si fa. Gianluca le fa le cose, le insegna. Pensate che è un uomo perfetto, no? Però se lo dici sembri un grillino, un ambientalista minoritario, perché le grandi reti dell'energia sono decise non da Gianluca Ruggeri, dalla sua cooperativa, sono decise dai grandi gruppi, che non vogliono i piani energetici, che non vogliono spiegarci come si produce l'energia, come mai costa così tanto, e se lo fai in Parlamento vedi muoversi, noi facciamo queste audizioni, ci sono milioni di sigle. Decidono loro e tu dici, ma scusate, ma perché non facciamo le cose che stiamo dicendo tutti in campagna elettorale, che fa Ruggeri, che si fanno nell'agricoltura, un altro settore nel quale non c'è bisogno di Farinetti e basta, Farinetti vota Renzi ma è bravo, perché noi siamo di quelle emozioni che pensano che se ci sono dei bravi nelle altre cose, lo diciamo lo stesso, non è che non è più bravo Farinetti perché vota Renzi. Se Farinetti spiega che l'agroalimentare potrebbe essere esportato e dare lavoro, ma facciamolo, cioè invitiamolo subito, facciamo tre giorni con lui per farci spiegare come si fa, perché altrimenti questo paese non riparte più. E provare veramente a cambiare impostazione, farlo con l'intelligenza che abbiamo nel PD è pieno. Guardate che nel PD noi facciamo già le cose che dice Civati nella mozione, solo che non lo diciamo a livello nazionale. E potrei fare degli esempi su questi temi fortissimi, il Trentino, reddito minimo, ce l'ha già proiettato a livello nazionale, costa 2,9 miliardi. Se volevi invece togliere l'Imu potevi fare quella cosa lì per dirne una. Eh sì, ci stava. E se lo vuoi fare, come dice la Bocconi, costa 7 miliardi, non ne costa 8 mila miliardi, ne costa 7 la proposta della Bocconi sul reddito minimo. E' certo che lo dobbiamo fare, è certo che lo dobbiamo fare per cambiare i rapporti di forza, che non vanno bene, che stanno facendo stare male tutti. Lo dico anche per chi sta dentro la cerchia dei navigli. Chi sta dentro la cerchia deve sapere che se i poveri che stanno fuori dalla cerchia stanno meglio, stanno meglio anche quelli dentro la cerchia. Non mi piace Renzi che sceglie il nuovo, perché Renzi è così. Marchionne o Fium, qual è il nuovo? Marchionne, senza male. Io gli dicevo, ma Renzi, ma non è così, ma guarda che lì devi avere un sacco di sedi in ma. Io poi tendenzialmente sto un po' più con Landini a occhio. Cioè, ma come dire, no è quello che non mi piace. Grazie. Grazie.